Musica Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato alle notizie dalla Veneto. La questione sicurezza in piazza Duomo a Padova rimane sempre un nodo molto caldo. Nel fine settimana appena trascorso una banda di ragazzini si è affrontata di fianco a uno dei locali, uno dei locali che ha proprio il plateatico dove è successo il parapiglia. Sono stati momenti concitati, drammatici, nei quali il titolare del ristorante ha anche fatto entrare i clienti all'interno per protezione e anche perché ovviamente erano spaventati. Una situazione che purtroppo prosegue da molto tempo e parte un appello con la richiesta di un presidio delle forze dell'ordine. Un presidio fisso. Grave incidente oggi in provincia di Venezia davanti a un istituto scolastico a Cinto Caumaggiore. Una ragazzina è stata investita da un'automobile. Sono stati momenti drammatici nel quale sul posto è atterrato anche l'elicottero del 118 che ha trasferito la studentessa all'ospedale. Le sue condizioni sono giudicate gravi. La dinamica dell'investimento dovrà essere ricostruito dalle forze dell'ordine intervenute sul posto. Adesso parliamo di caro Bollette. Oggi a Padova sono stati presentati gli sportelli rivolti ai consumatori, ai cittadini e anche ai titolari delle piccole e medie imprese. Cerchiamo di capirne di più. Caro Bollette, presentati a Padova oggi gli sportelli delle associazioni dei consumatori attivi sul territorio. I servizi sono nel comune di Padova a supporto di cittadini e imprese promossi da Adiconsum Padova Rovigo, Adoc Padova e Feder Consumatori Padova con il supporto della Camera di Commercio. Gli sportelli possono orientare i cittadini e piccole e medie imprese in tema di educazione e finanziaria, nella tutela relativa alle frodi, nella diffusione di buone pratiche di nuovi modelli di consumo, come ad esempio gruppi d'acquisto, di autoconsumo o comunità energetiche. E l'iniziativa assume grande importanza in questo momento in cui la crisi energetica e il caro Bollette che ne consegue gravano sulla vita delle famiglie e delle imprese, che hanno bisogno di supporto per sapersi orientare e riconoscere eventuali speculazioni. Le prime consulenze sono offerte in maniera gratuita grazie a un progetto finanziato dalla Camera di Commercio. Cittadini e consumatori e piccole e medie imprese possono rivolgersi agli sportelli organizzati dalle associazioni di consumatori che hanno aderito al progetto e sono adiconsum Padova-Rovigo, passeggiata del Carmine 3 in città, ad hoc, sempre a Padova, in via Saccardo 26 presso Will, feder consumatori via Longhin 117 presso la CGL. Dolore a Verona all'indomani della tragedia avvenuta in Questura dove una poliziotta di 46 anni si è tolta la vita mentre era in ufficio sparandosi con la pistola di ordinanza. Si tratta del diciassettesimo suicidio nella sola polizia di Stato dall'inizio del 2022. La tragedia ha sconvolto tutti i colleghi che non avrebbero mai pensato a quanto è accaduto. La donna, mamma di una bambina piccola, non avrebbe manifestato problemi e chi la conosceva non si spiega quanto è accaduto. Continua la preoccupazione degli imprenditori, commercianti e chi muove il mondo dell'economia di fronte alla caro energia. Purtroppo il decreto aiuti non porta risultati concreti che possano fornire strumenti a chi i conti li deve pagare alla fine del mese. Come era stato annunciato anche nelle scorse giornate, a Mestre, in Piazza Ferretto, si è tenuta una manifestazione con un'azione simbolica da parte dei partecipanti che hanno incendiato delle copie di bollette dell'energia arrivate negli ultimi mesi. Atto vandalico al centro vaccinale di Mirano, in provincia di Venezia. Sconosciuti si sono introdotti dentro la struttura durante la notte, sono state tagliate le strutture di tela che compongono le pareti ma i malviventi si sono accaniti anche contro l'impianto di alimentazione elettrica. L'attività del centro è comunque proseguita, stanno indagando i carabinieri. La Commissione di Garanzia sugli scioperi chiede di ridurre da 8 a 4 ore lo sciopero del trasporto pubblico locale in programma per la giornata di venerdì. La situazione? La Commissione di Garanzia sugli scioperi chiede di ridurre da 8 a 4 ore lo sciopero del trasporto pubblico locale proclamato per venerdì 16 settembre. Le categorie sindacali del trasporto locale hanno indetto lo sciopero per protesta contro le continue aggressioni subite dal personale e dinanzi alle quali non cambia nulla. Il personale chiede che vengano adottate misure di protezione e sicurezza. Le manifestazioni di protesta avvertono andranno avanti se non verranno presi dei provvedimenti. Intanto, come risposta, la Commissione ha deliberato di rivolgere un forte appello al senso di responsabilità dei soggetti proclamati affinché contengano la durata dell'astensione riducendola a 4 ore al fine di evitare un pregiudizio ulteriore ai diritti costituzionali dei cittadini utenti nella delicata fase di ripresa delle attività scolastiche lavorative e produttive che segue la pausa estiva. Ci spostiamo in provincia di Belluno dove una turista tedesca di 61 anni colpita da un arresto cardiaco mentre si trovava in un rifugio a Pieve di Cadore in provincia è stata salvata grazie all'intervento del titolare della struttura dove la donna si è improvvisamente sentita male. L'uomo infatti ha chiamato i soccorsi ma ha immediatamente avviato le manovre salvavita e ha utilizzato il defibrillatore. Il cuore ha ripreso a battere, nel frattempo ha intervenuto l'elicottero del SUEM con i soccorritori che l'hanno trasferita all'ospedale di Belluno. Ha fatto un volo di 20 metri ma un uomo che era andato in cerca di funghi in provincia di Belluno a Santa Giustina è miracolosamente salvo. 83 anni ha perso l'equilibrio ed è scivolato per diversi metri. attivati i soccorsi nell'area è giunto l'elicottero che lo ha soccorso trasportandolo all'ospedale dove è stato ricoverato. Parliamo del drastico abbassamento delle temperature. Sembra ormai arrivato il momento di dire addio all'estate secondo quanto prevedono gli esperti. Allora cerchiamo di capirne con il prossimo servizio. L'estate secondo gli esperti del meteo è agli sgoccioli. Sabato finirà definitivamente con la scomparsa di afa, caldo e siccità. È previsto infatti un tracollo delle temperature anche di 10-12 gradi. Il fine settimana in arrivo avrà un tipico volto autunnale che farà togliere dall'armadio quelle giacche pesanti che fino ad oggi avevamo dimenticato. Sulle alpi di confine è previsto l'arrivo anche di qualche fiocco di neve oltre 1700 metri. Rovesci e temporali sparsi sono previsti al nord-est in particolare nella giornata di venerdì. A Padova nuove disinfestazioni contro le zanzare adulte. Parliamo ovviamente di prevenzione alla West Nile. Da questa sera prende di nuovo il via il piano di disinfestazione straordinario concordato con la regione Veneto, comune di Padova e ULS 6. Altri 17 siti saranno interessati a partire dalle 23 e 30 dagli interventi per ridurre la quantità di zanzare. Zanzare che rappresentano un rischio per la popolazione. Adesso parliamo di protezione civile perché sabato ad Abano Terme si svolgerà un incontro molto importante di formazione e anche di informazione. Sabato 17 settembre dalle 10 alle 12 e 30 e dalle 14 alle 18 ad Abano Terme in provincia di Padova si svolgerà un'esercitazione che coinvolgerà il distretto di protezione civile di Padova Sud. 8 comuni partecipanti, 90 volontari coinvolti e 15 mezzi di soccorso e emergenza. Le zone coinvolte di formazione e addestramento saranno Piazza Mercato, Via Ghislandi, Monte Ortone, Sede Volontari Protezione Civile, Abano Terme. Le unità per la formazione coinvolte saranno il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana Terme Ugane e Protezione Civile Provinciale. La cittadella che si trova in Piazza Mercato ad Abano sarà lo spazio dedicato ai cittadini dove si potrà conoscere il programma della giornata di esercitazione, il volontariato di protezione civile e visitare alcuni mezzi speciali in dotazione. E con questa notizia siamo arrivati al termine di questa edizione esterale. Io ringrazio tutti voi per l'attenzione e vi do la rivederci a domani.